Chi è? Sì, salve, avevo un appuntamento con il dottore No, mi scusi, il dottore non c'è stamattina, lo trovo nel tardi pomeriggio Ah, va bene Bikers, buongiorno, sono Matilde Volevo un'informazione, è possibile noleggiare un e-bike? Sì, certo, non su problema Noleggio! Un documento, una carta di credito, grazie La mia carta di credito, grazie La mia carta di credito, grazie A l'attenzione, bilanciere il nostro corso Voi trovare l'attenzione, il nostro corso Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.